No, no, io ho vissuto con un grandissimo entusiasmo tutti i giorni il mio lavoro in campo, un po' di meno con voi. Questa è un po' la verità, diciamo, della cosa, tutto qua. Però il mio lavoro da annattore in campo con il gruppo è stato un percorso maraviglioso, ho imparato tantissime cose già in questo periodo, sono riuscito a dare tante cose in questo periodo, e questo scambio è quello che cercavo, ma sicuramente la cosa più bella rimane sempre proprio quello, di vedere la squadra che continua a far bene, continua a votare per il suo spazio, per i suoi risultati, e questi che ho vissuto per 22 anni e riconoscerlo con un gruppo che sin dal primo giorno che non è arrivato ha dimostrato sempre questo, per me è stata maravigliosa. Io la cosa che dà fastidio non sono sicuramente le critiche sul lavoro, sulle scelte, eccetera, proprio questo perché faccia proprio parte di questo mondo e quando tu sei esposto anche al pubblico è una cosa normale, la cosa che ha dato fastidio dà fastidio, è la poca ricerca della verità delle cose, è la poca obiettività che sia stata.